Come state ben ritrovati un saluto a tutti vi ricordo come sempre di commentare numerosi lasciare un bel like iscrivetevi qui attivate la campanella allora un'ultima ora da calcio e finanza che ci racconta un po' di dati di numeri sul Milan chiuso il bilancio con il secondo utile consecutivo approvata appunto approvato il bilancio al 30 giugno 2023 ha fatto registrare un risultato netto positivo di 4,1 milioni di euro quindi ha portato un beneficio di 4,1 milioni di euro il Milan ha fatto registrare i ricavi più alti della storia pensate 457 milioni di euro in aumento del 13 per cento rispetto alla stagione precedente il miglioramento dei ricavi legato prevalentemente al secondo posto in campionato la plusvalenza derivante alla sessione di Sandro Tonali alla crescita dei ricavi commerciali a quella dei ricavi da prodotti premium dello stadio e delle amichevoli estive giocate negli USA e quella post campionato in Australia malgrado siano venuti meno proventi UEFA da diritti tv perché in Champions Milan è uscito subito e di conseguenza minori ricavi da stadio il fatturato del club è cresciuto esponenzialmente e la società è rimasta inutile pur avendo investito il costo dei tesserati è aumentato di circa l'8 per cento pari a 11 milioni tra ingaggi rinnovi e nuovi innesti il Milan così fa registrare l'utile 4,1 milioni il gruppo ha chiuso l'anno con un patrimonio netto consolidato positivo da 196 milioni di euro in crescita quindi quindi ragazzi per il secondo anno di fila chi al Milan ci guadagna perché si dice si speso sul mercato ma alla fine cosa hai portato il bilancio e la bibbia se è più se è positivo hai messo da parte se è meno hai messo e hai perso quindi il cardinale per il secondo anno guadagna non tanto per tantissimo per noi comuni mortali non per cardinale ma comunque c'è un altro beneficio da 4,1 milioni di euro che aggiungo sarebbe stato anche superiore se Milan avesse superato lo scorso anno il girone di champions sarebbe stato molto superiore per questo sottolineo sempre l'importanza di privilegiare il tema sportivo il campo cioè cercare di essere più competitivi in campo investire per essere più competitivi in campo perché poi vinci che è la cosa che è più importante per noi ma anche perché per loro poi c'è un giocamento economico finanziario ditemi che ne pensate commentate numerosi lasciate un bel like iscrivetevi no al concetto cardinale benefattore cardinale con il Milan negli ultimi due anni non tanto per lui ma ci ha guadagnato un saluto grazie a tutti